mentre i ragazzi continuano ad allenarsi qui presentiamo un altro esercizio che è molto semplice e serve per lavorare gli obliqui è molto semplice basta girarsi con il busto prima da un lato e poi dall'altro in questo modo in questo modo andiamo a lavorare gli obliqui abbiamo sempre eretto la schiena ci appoggiamo ok